La politica siciliana si fa anche a tavola tra un aperitivo e una portata consistente, ma sempre a spese del contribuente, perché l'inchiesta sulle spese pazze all'Ars certifica ogni giorno di più che i conti erano pagati inequivocabilmente con i fondi assegnati ai gruppi parlamentari. Il record spetta all'ispicesi Inocenzo Leontini, che avrebbe speso circa 28.000 euro di pranzi e cene fra l'agosto del 2008 e luglio del 2009. Si trattava in quell'occasione di banchetti di ringraziamento dopo l'avvio della legislatura, quindi niente a che vedere con l'attività istituzionale dei gruppi. Il menù più raffinato è stato però quello pagato dal capogruppo dell'Udc Rudy Maire a Mondello, 600 euro per 11 persone, neanche tanto in fondo, mentre fu un grande successo, sempre targato Udc, quello organizzato per un centinaio di persone, costo 1.300 euro a testa, costi anche questi pagati con i fondi dei gruppi parlamentari. Intanto, venerdì prossimo, inizieranno le audizioni in procura dei capi gruppo che hanno ricevuto l'avviso di garanzia. Si comincia con Francesco Musotto, il 28 tocca a Leontini e successivamente a Maire, poi toccherà ai deputati in tutto 83. Quasi un maxiprocesso, solo che alla sbarra c'è stavolta il Parlamento siciliano.